qua stiamo facendo un altro lavoro su otto impianti dentali con l'ultimo materiale che è uscito sul commercio che unisce i pro del metallo ceramica e i pro dello zirconio quindi l'estetica che sta ora fissando i denti sopra la struttura prodotta con i frezzatori con le stampanti 3d viene prodotta in questo momento ed ecco che stiamo finalizzando adesso il caso con la parte estetica